ciao ragazzi io sono matteo valenza e oggi voglio farvi vedere questa cosa hey siri apri il baule hey siri siri comincia a esserci poca aria qui dentro vabbè però hey siri apri il baule come ciao hey siri apri il baule grazie cominciava a non esserci più aria come vedete ho automatizzato il mio baule grazie a tutti se rompete i gancetti ci sono anche dei gancetti grazie a tutti 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 ho comprato questo kit da tesla offers e vi devo dire che funziona veramente bene l'apertura la chiusura è possibile farla sia dall'interno che dall'esterno e con la nostra app sul telefonino dall'interno abbiamo installato un pulsantino che permette la chiusura perché dal tablet di tesla ovviamente è possibile solo l'apertura visto che la chiusura non è prevista l'installazione del kit non è assolutamente facile io ci ho impiegato circa 6 ore ed eravamo due persone di cui uno era praticamente un elettricista barra elettrauto se avete bisogno di consigli vi lascio il mio link telegram così potete contattarmi direttamente corredato dal kit viene anche fornito un video molto dettagliato tramite il quale voi potete seguire tutto il percorso di montaggio il baule è possibile anche fermarlo quindi si ferma in automatico se trova qualche cosa che lo impedisce ed è anche possibile aprirlo e chiuderlo senza problemi esistono le due funzionalità quindi si può aprire di nuovo anche se chiuso e richiuderlo dipende da quanto tempo voi premete il pulsante i pulsanti sono due sono installato uno dietro e uno davanti l'installazione fondamentalmente comprende tutto il kit la centralina che viene installata dove volete voi io l'ho installata qui sotto all'interno del vano portabagagli tutti i cavi vengono tirati lungo la parte sinistra dell'auto fino ad arrivare ai due pistoni i cavi corrono dietro i fari e si infilano entrambi dentro nella centralina nulla di più facile mi raccomando se volete comprarli fatemelo sapere comunque io vi lascio il link in descrizione del sito dei ragazzi di tesla offers e se volete comprare una nuova tesla mi raccomando utilizzate il mio codice RFR l'avrete in regalo 1500 km gratuiti non dimenticate di fare subscribe e di accendere la campanellina grazie ragazzi ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti